Archiviata la Futsal Continental Cup con il quarto posto della nazionale italiana in Kuwait, torna il campionato di Serie A. Per quel che riguarda gli impegni delle nostre, il Pescara, domenica con inizio alle 17.30 al Pala di Copiano, riceverà la Luparenze. Sarà il big match della giornata, con diretta su Rai Sport 2 e la partita dei tanti ex, ma soprattutto è la partita di Fulvio Colini. L'attuale tecnico del team pescarese ritrova infatti la squadra con cui a giugno è diventato campione d'Italia Montesilvano. Hanno fatto lo stesso percorso Caputo, Ercolessi e Canal, mentre in precedenza era toccato anche Rogerio. Tragitto inverso per Maurizio e Giasson lo scorso anno a Pescara e ora a disposizione di Musti. I Lupi sono l'unica squadra ancora imbattuta in questo campionato, ma il Pescara è pronto a fare lo sgambetto per risalire la classifica dopo un avvio a corrente alternata. È stata posticipata lunedì invece la sfida dell'Acqua e Sapone e Megros. La squadra di Bellarte giocherà contro i calabresi del Corigliano inizio gara alle 20. Ben sette i giocatori tornati da Coet per l'Acqua e Sapone, cinque azzurri, Mammarella, Calderolli, Cavinato, De Oliveira e Murillo e due argentini, Cuzzolino e Borruto. La voglia di fare punti è tanta, ma il Corigliano è squadra tosta in casa avendo battuto sia il Rieti che la Lazio. Una curiosità, l'argentino Cuzzolino ha origini calabresi, la mamma del calciatore e la nonna paterna sono infatti nati proprio a Corigliano, un motivo in più per fare bene. In Serie A 2, ospite scomodo per il Futsal Prutino Loreto. Domani con inizio alle 15 al Palasport di Cepagatti arriverà il Porto San Giorgio. Donne, domenica doppio confronto interessante. In A alle 14.30 il Montesilvano ospiterà la Palaroma all'Acquedotto Roma dell'ex Pomposelli. La Vis Lanciano invece, a caccia del secondo acuto stagionale, giocherà con inizio alle 17 nel Palasport Frentano contro il temibile Olgiata Roma.